Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro, vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Disse loro Gesù, non è forse scritto nella vostra legge io detto voi siete dei? Ora se essa ha chiamato dei colore ai quali fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio non credetemi, ma se le compio anche se non credete a me, credete alle opere perché sappiate, conosciate che il Padre in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani, ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano nel luogo dove prima Giovanni battezzava e qui rimase. Molti andarono da lui dicevano Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero e in quel luogo molti credettero in lui. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a venerdì 3 aprile 2020, primo venerdì del mese, ultimo venerdì di quaresima, settimana prossima saremo, sarà già il venerdì santo, ultimo venerdì di quaresima e noi come sempre cerchiamo di fare ogni giorno un bilancio e quest'oggi il nostro bilancio deve essere fatto in rapporto al Sacro Cuore di Gesù, davanti al quale riconosciamo chi siamo, ma soprattutto riconosciamo il suo amore incredibile, la sua bontà infinita, tutti gli atti di grande misericordia che ha avuto nella nostra vita. Non fosse altro che ci concede ancora un altro giorno di tempo per amarlo di più e meglio. Vi ho letto questo brano del Vangelo tratto dal capitolo decimo di San Giovanni, come già vi ho detto vi consiglio di leggere, di meditare questi capitoli, l'ottavo, il nono, il decimo di San Giovanni sono molto belli e pensando a quello che avrei potuto dire che c'è proprio un tema che mi sembra che sia come dire, non lo so, la pietra d'inciampo, il cardine, pietra d'inciampo in un senso e cardine nell'altro di tutto questo discorso che stiamo affrontando in questi giorni tra Gesù e questi giudei che diceva ieri molti credettero in lui, che furono appunto questi giudei e poi inizia questa diatriba, questa discussione terribile con Gesù dove loro proprio non ascoltano nulla, non si lasciano raggiungere dalla forza logica di Gesù, resistono la sua vis e vanno avanti per il loro percorso. Anche noi noi ci troviamo di fronte al tabernacolo, siamo trovati di fronte al tabernacolo tante volte, davanti al corcifisso, a pregare, a meditare, eppure vediamo come è difficile che la nostra vita realmente cambi, perché questo incontro di Gesù, con Gesù, se non passa attraverso una porta tanto cara ai Santi, soprattutto a Santa Teresa di Gesù, se non passa attraverso questa porta non produce nulla, che è la porta dell'amicizia. O noi diventiamo amici di Gesù, oppure possiamo essere religiosi, tanto religiosi, tanto devoti, ma con la nostra testa, con le nostre idee che non si conciliano con la testa, con il cuore, appunto oggi, primo venire del mese, con l'idea di Gesù. Sarebbe interessante vedere, fare una sorta di bilancio. Tutte le volte che io mi metto davanti a Gesù, quante volte io esco dall'incontro con Gesù dicendomi, sono entrato con un'idea e esco con un'idea corretta o radicalmente cambiata, question point, quante volte, quante volte è successo questo? E allora oggi volevo proprio parlarvi di questo tema dell'amicizia e sì, è vero, avrei tantissime cose da dirvi, no? Però, insomma, la mia nonna diceva che i ragli degli Asi non arrivano in cielo, quindi ho pensato di affidarmi a un cavallo di razza. E vorrei oggi leggere con voi alcuni passi, non tutto ovviamente, di un testo che si chiama L'amicizia, di Pavel Florensky. Poi andrete tranquillamente su internet e cercherete bene chi è. Io vi dico solamente due parole perché sennò richiede troppo tempo, la sua vita è di una ricchezza incredibile. Lui è stato un filosofo, un matematico, è stato un presbitero russo, è nato nel 1882, mi sembra quel periodo lì, ed è morto proprio il giorno dell'Immacolata Concezione nel 1937. Lui muore sotto il regime sovietico, viene fucilato, viene anche incarcerato nei campi di sterminio e da lì scrive delle cose bellissime, incredibili, stupende, che vi invito a leggere perché sono altezze, altezze di pensiero e di vita. E in questo testo sull'amicizia di questo sacerdote russo che uno diceva era un filosofo, matematico, guardate era un po' tutto, perché se voi adesso leggeremo il testo, alcuni passi vedete come sapeva spaziare nelle varie aree del sapere. Sentite che belle queste espressioni che lui dice l'amicizia perché uno dice ma io cosa vuol dire essere amico di Gesù? Ecco no? Perché capite, noi forse nella nostra vita non siamo mai stati amici di nessuno. Se io non ho mai vissuto, adesso vi leggo le parole perché uno così capisce se ha avuto un amico, perché l'amico non è quello con cui vado a mangiare la pizza, l'amico non è quello con cui bevo la birra, non è questo l'amico con cui vado al bar, con cui vado a vedere la partita, con cui vado a sciare, con cui non lo so, no no non è questo, l'amico non è quello che condividi i miei interessi, andiamo a pescare insieme, che ci vediamo non lo so ogni tanto a fare qualcosa, no no l'amico non è questo, non è questo, cioè noi dobbiamo capire se abbiamo mai avuto un amico, perché se io non ho mai avuto un amico, non ho mai sperimentato l'amicizia, come faccio a pensare la mia amicizia con Gesù, se non sanno anche che cos'è, l'amicizia con Gesù non è il fare delle cose, così come l'amicizia con un'altra persona, non è fare delle cose insieme, non è questo, anche i ladri rubano insieme ma non sono amici, quindi dobbiamo capire che cos'è l'amicizia, perché guardate è il valore più importante e Santa Teresa così definisce l'orazione, un rapporto intimo di amicizia con Gesù, sì certo ma se io non ho mai vissuto, se io mai mi sono messo né a cercarla né a darla questa amicizia, se io non so, non sono mai stato capace di essere amico di qualcuno, è impossibile che io sia amico di Dio, impossibile, perché non so di cosa sto parlando, cioè non è possibile, ma non posso neanche capire che cosa vuol dire per Gesù essere amico mio, non lo posso capire, non posso definire Gesù l'amico per eccellenza se non so che cosa vuol dire essere amici, per l'amicizia bisogna essere pronti a morire e Gesù lo dice chiaro nel Vangelo, io non vi chiamo più servi ma amici, certo lui ci chiama amici ma noi lo chiamiamo amico, non lo trattiamo d'amico? Ecco, adesso vediamo che cos'è l'amicizia, perché se no finiamo nel Vangelo di oggi e di ieri e di giorni scorsi? Allora, dunque, un secondo che finisco con una, troncando una frase, scusate, inizio troncando una frase che lui dice, perché devo spizzicare un po' qua un po' là, perché guardate, se no devo stare qui cinque ore a parlarvi di questo testo, allora, vi dico questa frase che è la metà di una frase già iniziata, così l'amante accoglie l'amato nel suo seno e lo porta sotto il cuore, così l'amante accoglie l'amato nel suo seno e lo porta sotto il cuore, ecco noi possiamo già fermarci qua, se uno dice cos'è l'amicizia? l'amante accoglie l'amato nel suo seno e lo porta sotto il cuore. Voi provate a sentire se queste parole, che solo il commentarle è rovinarle, voi provate a sentire se queste parole dentro di voi, eccheggiando nella vostra anima, producono l'immagine di un volto. Se c'è un'immagine che immediatamente si dipinge nella vostra mente suonando questa armonia meravigliosa, voi avete avuto l'esperienza e l'amicizia. L'amante accoglie l'amato nel suo seno e lo porta sotto il cuore. Lo dice anche il poeta, scrive Froneschi, anche se per un caso un po' diverso. E scrive, qui c'è ombra, la calura e grida. Io vado errando come in sogno e sento viva una cosa sola. Tu sei con me e tutta in me. Tu sei con me e tutta in me. Voi sentitelo, no, verso qualcuno, se c'è, se c'è stato. E a questo punto lo potete cominciare a innalzare verso Gesù. L'io amico è accolto nell'anima e così confluiscono due correnti. Questa unità vitale si ottiene non asservendo una persona a un'altra e nemmeno con la servitù cosciente dell'una di fronte all'altra. L'unità amicale non può neanche essere chiamata concessione. Attenti bene, eh? Quindi l'io amico è accolto nell'anima e così confluiscono due correnti vive. Bellissimo, no? Questo amico che entra, che è dentro, che abita, che è accolto nella mia anima, che riposa nel mio seno, che sta sotto, dentro il mio cuore, sotto il mio cuore, no? Cioè, è bellissimo, no? L'amico è colui sul quale il mio cuore poggia, la punta del cuore poggia sul cuore dell'amico e lo protegge e lo avvolge e lo sostiene e lo cura e lo scalda col battito del suo cuore, lo reinvigorisce con la pulsione del suo sangue, gli insegna l'ordine e il rigore con il ritmo perfetto del cuore. Bellissimo, bellissimo. Quindi dice, e due correnti vive, questa unità vitale si ottiene non asservendo una persona a un'altra. L'amicizia non è che tu sei asservito a me, non è la dipendenza psicologica, la dipendenza servire, la dipendenza affettiva da parte tua nei miei riguardi o viceversa. E nemmeno con la servitù cosciente dell'una di fronte all'altra, cioè non c'è amicizia dove c'è servitù. L'unità amicale non può neanche essere chiamata concessione, remessività, perché appunto unità. Quindi non è che ci può essere uno che molla e uno che tira. Non funziona così, eh? L'uno sente, desidera, pensa e parla così. Dopo vedremo cosa vuol dire questo così, eh? L'uno sente, desidera, pensa e parla così non perché così ha sentito, desiderato, pensato e parlato l'altro, ma perché ambedue provano un unico sentimento, nutrono un'unica verità, pensano un unico pensiero e parlano a una voce sola. Ciascuno vive dell'altro, o meglio la vita dell'uno e dell'altro scaturisce, scaturisce da un unico e comune centro che gli amici con sforzo ascetico creativo pongono davanti a sé. Cioè capite, quest'uomo in cinque righe ha scritto il mondo, quest'uomo in cinque righe ha sintetizzato le esperienze più grandi e più meravigliose che hanno vissuto gli uomini più belli che sono quelli che hanno dato la vita per l'amicizia. Cerchiamo di capire bene queste parole perché guardate potremmo anche fermarci qui, ce ne sono tantissimi, un libro pieno intero di queste espressioni. Quante volte si sente dire, ma quelli due lì sono uno copia dell'altro, dove va uno va quell'altro e quello che pensa uno pensa anche quell'altro, ma dov'è l'individualità? Dov'è la propria singolarità? Dov'è la propria personalità? Ma non è possibile che uno gli piace bianco e anche l'altro gli piace bianco? Che uno lo vuole verde e allora anche l'altro lo vuole verde? Ma non è possibile essere così appiccicati? Essere quasi il clone uno dell'altro? Oppure, peggio ancora, no? Arriviamo anche a queste vette di di bassezza. Ecco, è manipolato, clonato, è una sudditanza psicologica, è una manipolazione della mente. Tutto possibile, ma stiamo attenti a non confondere l'ucciole per lanterne, eh? Attenzione. L'uno sente, desidera, pensa e parla. Sente, desidera, pensa e parla. Cioè, tutto, eh? Il soggetto è quello che è in tutta la sua interezza, non perché così ha sentito, desiderato, pensato e parlato l'altro, non perché lo fa l'altro. Cioè, non è un copione, non è uno specchio, eh? Ma perché ambedue provano un unico sentimento, nutrono un'unica verità, pensano un unico pensiero, parlano a una voce sola. Capite? È perché queste persone sono dei monoliti. questo unico pensiero, unico sentimento, unica verità, da dove viene? Ciascuno vive dell'altro, o meglio, la vita dell'uno e dell'altro scaturisce da un unico e comune centro che gli amici, con sforzo ascetico creativo, pongono davanti a sé. Capite? Viene da qui, eh? Quell'unico pensare, l'unico sentire, l'unico volere, l'unico desiderare, da dove viene? Viene dall'unico centro, non viene dal, dal, da questa sorta di narcisismo dove uno si affoga nello specchio d'acqua dell'altro, non viene da lì, eh? Viene da un terzo. La vera amicizia è sempre trinitaria. Ecco, siamo arrivati, siamo arrivati, abbiamo bozzato l'idea centrale. Un'amicizia o è trinitaria o non sarà mai amicizia. Padre, figlio e Spirito Santo. Deve esserci sempre un terzo esterno, ma nello stesso tempo origine dei due. Origine, origine continua, eh? Origine continua dei due. L'amore, l'amato, l'amante. Padre, figlio e Spirito Santo. Lo Spirito Santo, lo Spirito d'amore è ciò che continuamente lega, ciò che continuamente unisce, ciò che continuamente è il vettore, il veicolo dell'amore infinito tra il padre e il figlio, tra l'amato e l'amante. Capite? Quindi ciascuno vive dell'altro. La vita dell'uno e dell'altro scaturisce da un unico e comune centro che gli amici con sforzo ascitico creativo pongono davanti a sé. La loro unità, la loro unità su tutto, eh? Unità su tutto. Non è unità su tutto. Tu li vedi, li vedi, li vedi proprio, sono una cosa sola. Dire cosa sola è già un'offesa. Sono la medesima realtà. Sono la medesima realtà. Con due forme diverse. Con due corpi diversi. Ma sono la medesima realtà. Bellissimo. Bellissimo. E questa unità, vera unità, che noi assolutamente, noi che parliamo di comunità con la K, della fraternità, di tutte queste robe qui, noi non sappiamo minimamente cosa vogliono dire queste parole. Proprio zero. Zero. Perché queste parole non ammettono nel modo più assoluto neanche la più piccola pagliuzza di invidie, gelosie, rancori, mormorazioni, sentimenti negativi, cattiverie. Guardate, questa roba carnale, mondana, concupiscente, orripilante, non può abitare dentro al discorso di queste entità. Che vuol dire dentro a vite di queste entità. Basilio e Gregorio, Chiara e Francesco, Teresa e Giovanni, per fare dei nomi. Solamente per fare dei nomi, un paio di nomi che tutti conosciamo. Queste persone, questi santi, vivevano questa cosa, ma tutta la nostra bassezza, non spero neanche cosa fosse. Un unico e comune centro. Il problema è che noi, ognuno, c'è al suo di centro. Non c'è un unico e comune centro. Perché questo unico e comune centro non è Gesù? È il nostro io. È per questo che noi non sappiamo che cosa è l'amicizia. Vedete, poco prima dice, ambe due provano un unico sentimento, nutrono un'unica verità, pensano un unico pensiero, parlano una voce. È incredibile. Guardate che è un'altezza stupenda. Questo dovrebbe essere il nostro rapporto con Gesù. Pensate se la nostra unità con Lui fosse sentire, desiderare, pensare, parlare. Perché proviamo un unico sentimento con Gesù. Abbiamo, nutriamo un'unica verità, Gesù. Pensiamo un unico pensiero, quello di Gesù, e parlano una sola voce, quella di Gesù. Capite? Questa è la santità. Questa è l'amicizia con Gesù. Questo vuol dire essere amici di Gesù. Tutto il resto è pula. Quindi un unico comune centro che gli amici con sforzo ascetico creativo oppongono davanti a sé. Certo, queste due persone devono per forza vivere di ascesi. È uno sforzo grandissimo cercare di porre, di tenere sempre davanti a sé questo centro. Questa è una penitenza incredibile. Cioè, questi che vivono l'amicizia vera sono dei decentrati. Loro non hanno come centro l'io, ma hanno come centro il terzo. Questa è la loro grandezza. Sono degli estragnati da sé. Ecco dove è la lotta. Tenere l'io lontano dal centro. Perché il centro deve essere il terzo, affinché sia un centro comune. Perché se io metto al posto del terzo il mio io, cosa succede? Che l'io diventa Dio, diventa il centro, e l'amico non è più libero di essermi amico. Deve diventare schiavo. Quindi non è che uno copia l'altro nei sentimenti, nei pensieri, nei desideri, nelle tutte le cose che abbiamo letto. Non è che uno copia l'altro, ma è che entrambi vivono dell'unicum, che è il terzo. È il terzo che non si vede, che gli altri bovi ovviamente non vedono. È il terzo che loro vedono, che loro amano, che loro cercano, che loro desiderano. È il terzo che li plasma e li forma secondo il suo unicum. Secondo il suo stile, secondo la sua verità, secondo il suo pensiero. È quello. Lui è la forma profonda dei due amici. Ecco perché loro si assomigliano, perché di fatto loro prendono porzioni di pensiero, di desideri, di stili del terzo, che è Gesù, che è Dio. E allora cosa abbiamo? Abbiamo San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, che sono diversi nella loro amicizia da Santa Chiara e San Francesco. Diversissimi. Diversissimi. Ma profondamente uno, profondamente uniti, profondamente in comunione. E la loro unità, la loro, stavo dicendo uguaglianza, ma è ancora poco dire uguaglianza, dove si radica? Si radica sul terzo. Quindi capite che tutte quelle scemenze che diciamo la diversità è bella, la diversità è arricchente, la diversità, sono le consolazioni della vedova. Io però non ho più il marito. Punto. Sono le consolazioni del povero, che non sarà mai ricco. E allora si consola guardando le pannocchie, che gli sembrano oro, invece sono semi di grano. Sono stupidaggini quelle cose lì, sono stupidaggini. I veri amici, coloro che sperimentano la vera amicizia, vivono di questa unità, che non è uniformità, ma è unità che noi, ovviamente, non conoscendola, no? Come la favola, no? Non conoscendola, cosa diciamo? Che il pavone è anche lui un corvo. Eh certo, eh certo. Certo, mettiamo addosso le penne. Mettiamo addosso noi, no? Le penne perché diventi un corvo anche lui. L'uno sente, desidera, pensa e parla così, non perché così ha sentito, generato e pensato e parlato all'altro, ma perché ambedue provano un unico sentimento, un unico verità, un unico pensiero per una sola voce. E qui ci vuole uno sforzo incredibile, uno sforzo ascetico creativo. Perché creativo? Ora, io non posso, non mi permetto di interpretare il pensiero di Floreschi perché... No, non è proprio il caso, ma ipotizzo, una possibile ipotesi. Voi ne troverete tante altre. Creativo perché di fatto ci vuole creatività per trovare tutti quei mezzi che permettono a me e a te di mettere il nostro io sotto i piedi e di mettere al centro il terzo. Dobbiamo essere creativi, ce le dobbiamo inventare. Ci vuole tanta fantasia, eh? Perché noi siamo furbi. E quindi dobbiamo stare attenti a fare in modo che... Tutto di noi... E tutto in noi... Ci aiuti... Ci sostenga in questo sforzo. Quindi ci dobbiamo aiutare a fare che cosa? A smascherarci a vicenda. Perché più noi ci smascheriamo a vicenda e ci aiutiamo a vedere le nostre furberie, dove l'io tenta in tutti i modi, come l'edera, di risorgere, più noi tiriamo via l'io, lo allontaniamo dal centro, più diamo spazio al terzo e più noi cresciamo nell'unità. Nella vera unità. Infatti noi quando vediamo un santo, che ci capita, eh? Capita di incontrare i santi che camminano accanto a noi. Quando noi incontriamo i santi, come succedeva a loro che erano vivi, cos'è che diciamo dei santi? Sono pazzi. Sono pazzi. Sono... Sono esagerati. Sono pazzi. Non hanno capito niente di cosa vuol dire seguire il Signore. Stessa cosa che dicevano in San Giovanni Bosco, che lo volevano ricoverare, lo stavano portando in manicomio. San Giovanni Maria Viannei, San Filippo Nero e non ne parliamo. Santa Teresa. Madre Teresa di Calcutta. Ma tutti, tutti, tutti. San Francesco del Sisi, vabbè, lasciamo perdere lui ancora di più di tutti. In tutti i modi, noi, Padre Pio, vogliamo parlare di Padre Pio? In tutti i modi, noi i santi li prendiamo e li vogliamo ammazzare. Perché? Perché non stanno dentro le nostre righe, nel nostro pentagramma. E quindi non li sappiamo collocare. Perché noi non sappiamo cosa vogliono dire queste parole. Questo è il problema. Queste parole, noi non ci appartengono. Noi ne sappiamo vivere così. Pochissimi probabilmente di noi sanno cosa vogliono dire queste parole. sanno nel senso di un sapere vitale, eh? Che poi vuol dire anche un sapere concettuale. Perché se non c'è la vita, non c'è neanche la testa. E allora chi vive così? Noi lo vediamo, lo guardiamo da lontano e diciamo, no, ma quelli sono pazzi. Ma cosa stanno facendo? No, ma quelli sono manipolati. No, ma quelli sono clonati. Quelli sono asserviti. Hanno rinunciato alla libertà. Hanno rinunciato alla loro personalità. Ai loro gusti. Capite? Perché noi non abbiamo un terzo nella nostra vita. E quindi non abbiamo neanche un secondo. Nella nostra vita ci siamo solo noi. Con il nostro egoismo gretto. Con il nostro meschino egocentrismo. E ci illudiamo. Perché stiamo lì, seduti, in ginocchio, davanti all'eucaristia. A leggere, a scrivere, a dire le pregherine, il rosario, noi ci illudiamo che siamo amici di Gesù. Ma che amici di Gesù? Ma che amici di Gesù? Amici di chi? Di che cosa? Che nessuno può venire a toccare la nostra inviolabile libertà e indipendenza. Che nessuno può permettersi di dire mezza parola che vada contro una nostra piccolissima idea. Nessuno. Perché appena dice una roba del genere lo sbraniamo. però noi stiamo lì davanti al Signore facciamo due o tre ore di preghiera e poi andiamo a casa contenti perché abbiamo fatto il nostro dovere. Diciamocelo. Che vita triste. Che vita triste. sentite adesso questa espressione. Ma ma che belle che sono. Per questo le sue varie manifestazioni sono sempre di per se stesse armoniche. di per se stesse e non per una tensione del sentire, del volere, del pensare per una formula verbale ribadita come principio di unità. Noi ribadiamo continuamente formule verbali come principio di unità. quando si tratti di una formula verbale di un sistema di formule che è detto in un programma abbiamo un'unità homo-iusaica ossia un'alleanza una cosa totalmente diversa dall'unità consostanziale dell'unità nel significato strettissimo del termine unità. Gli amici costituiscono la loro amicizia nelle viscere no-menali e non alla superficie semi-umbriatile e inerte della fenomenicità psichica. Proprio per questa ragione gli amici costituiscono una bi-unità una diade non sono loro ma qualcosa di più un'anima sola. Vabbè. Leggere queste parole è come essere in riva al mare e guardare l'orizzonte o cercare di fissare gli occhi nel sole è la stessa cosa. Tu le leggi e dici se qualcuno le ha scritte perché le ha vissute questo basta per dare un senso alla vita di tutti per dire da oggi lo chiederò anch'io a Dio sì guardate non so non so se commentarvi queste espressioni sono un po' complesse lo so e sono un po' un po' difficili perché prevedono una conoscenza anche teologica oltre che filosofica non so se commentarvi queste o leggervi quello che viene dopo ma vi leggo anche quello che viene dopo capite gli amici costituiscono la loro amicizia nelle visce nomenali del numeno cioè gli amici costituiscono la loro amicizia proprio cioè nel fondo del fondo del fondo dell'essere del pensiero lì cioè proprio al principio di tutto e non alla superficie semi-umbratile inerte della fenomenicità psichica non fondano la loro unione sulla sulla mente sul sulla mia psiche sui miei sentimenti sul sul mio sentire semi-umbratile inerte capite ciò che io provo i miei sentimenti che tanto oggi vanno di moda i sentimenti le commozioni interiori quello che io sento è una superficie semi-umbratile e umbratile e inerte cioè semi-umbratile e inerte è niente è meno di niente loro costituiscono la loro diade loro sono una diade sono una biunità sono un'anima sola Marco Minuccio Felice racconta che il suo amico Ottavio lo amava tanto ardentemente che i loro desideri erano totalmente concordi in tutte le cose importanti e serie lo amava tanto ardentemente che i loro desideri erano totalmente concordi in tutte le loro cose importanti e serie e anche in quelle meno serie né divertimenti si poteva pensare che i due condividessero un'unica anima divina Marco Minuccio Felice e il suo amico Ottavio qui siamo oltre la semi dunque rileggiamo la sua espressione bellissima qui siamo oltre la semi umbratile e inerte fenomenicità psichica delle cose sessuali delle robe volgari quelle robe che vediamo al mondo di oggi qui siamo oltre oltre lo amava sono due uomini quindi allora noi fare 1500 pensieri dietrologie pensieri cattivi cioè guardate veramente impossibile impossibile parlare di queste cose capite che se voi leggete questi testi ragazzi questi si innamorano partono per partono per il cielo uno che legge queste parole qui e qualcuno che le spiega ma se anche non le spiega poi le capisce da solo pian pianino uno che gli fai leggere questa roba qui dopo tu hai finito di guardare di leggere questa roba qui tu sei lì così tu sei perso capite sei perso nella bellezza sei perso nel desiderio il male il peccato non ti può più toccare non ce la fa perché sei sedotto dalla bellezza di queste altezze questo è il cuore di Cristo capite questo è il cuore di Gesù Gesù ama così Gesù ama così lo amava tanto ardentemente che i loro desideri erano totalmente concordi in tutte le cose importanti e serie e anche in quelle meno serie divertenti capite anche nelle cose più piccoline questa unità da dove arrivava dall'amore dal terzo non era né Tizio non era né Marco né Ottavio era questo amore profondo che li univa era il terzo che permeava i due era in ragione dell'amore che erano uniti quest'anima solo in ragione dell'amore non era in ragione di altro e non può essere altrimenti perché gli amici c'è sicura l'attanzio non potrebbero essere legati ad un'amicizia così fedele se in ambe i due non ci fosse un'anima sola un solo pensiero una sola volontà una uguale opinione per noi è plagio questo per noi è plagio per noi gente volgare questo si chiama plagio per noi che siamo i piccioni per le aquile invece questa è la vita è la realtà questa è la realtà i corvi neanche immaginano cosa vivono le aquile non potrebbero essere legati ad un'amicizia così fedeli se in ambidù non ci fosse un'anima sola un solo pensiero una sola volontà un'uguale opinione vogliamo parlare di matrimonio no è meglio di no però meglio non che non tocchiamo non scoperchiamo questo vaso di Pandora perché se no anche questa cosa viene fuori no perché sarebbe bello sì dai lo tocchiamo perché sarebbe bello no prendere queste parole e vedere i nostri matrimoni uno dice no ma i matrimoni adesso non durano più i matrimoni c'è il divorzio i matrimoni no ma scusate io posso sposarmi con una persona e dire di dare tutta la mia vita insieme fare dei figli insieme se non vivo queste cose ma che matrimonio è quella lì ma qual è la famiglia menù di cui vi ho già parlato ma quella lì è un spa è un srl ma non è non è un matrimonio ma cos'è quella roba lì e poi uno dice eh padre vengo a confessarmi perché ho peccato di adultero te l'ha detto mia moglie no ma il problema non è questo cioè sì è una cosa terrificante hai fatto una roba orribilante orrenda ma il problema non è questo il problema è che tu questa roba qui non la vivi questo è il problema no sa padre io faccio fatica a vivere la castità vengo a chiedere perdono a Dio perché sono caduto contro la purezza sì ma il problema non è quello il problema è che tu non hai l'amore nella tua vita questo è il problema e se non c'è amore c'è altro per forza no ma io sa io eccedo bevo il vino quando sono depresso quando vado giù di morale bevo il vino eh sì certo ma continuerei a berlo continuerei a berlo non è che venendoti a confessare lo risolvi continuerei a berlo perché tu non vivi questa roba e non si può vivere senza questa cosa qui non si può l'essere umano è fatto per queste cose non è fatto per altro poi è chiaro no dopo noi siamo insoddisfatti siamo lì che piangiamo perché e perché perché certo perché uno torna a casa la sera e cosa trova non trova questa cosa qui e allora va a cercare altrove dove e la va a cercare a giocare a calcio la va a cercare affogandosi nel lavoro la va a cercare bevendo la va a cercare uscendo con gli amici la va a cercare affogandosi nelle cose da fare la va a cercare guardando le cose impure la va a cercare in mille modi no diventando schiavo del gioco d'azzardo ma ci sono tanti tanti la va a cercare mangiando come un bue no eh ma io non riesco a fermarmi da mangiare certo devi riempirti capite è un simbolo è proprio simbolico quel gesto tu ti stragozzi di cibo perché il cuore è vuoto e siccome devi riempirlo questo cuore allora siccome non riesci a riempire il cuore riempie lo stomaco è solo che è un po' diverso il cuore non ingrassa mai lo stomaco sì la vita comune è comune gioia è comune sofferenza nell'amicizia non c'è comune gioia e comune sofferenza ma armonica gioia e armonica sofferenza nel primo caso abbiamo qualcosa che va dalla periferia al centro dell'anima e riguarda coloro che sono relativamente lontani da noi invece la gioia e la sofferenza degli assolutamente vicini nascono nel centro stesso della loro anima dove si espandono verso la periferia qui non abbiamo più il riflesso di un umore altrui ma una gioia e una sofferenza nostre voi capite eh sì noi non voi noi ecco vedete ecco qua che lo dice l'amicizia è la visione di sé con gli occhi dell'altro ma al cospetto di un terzo e precisamente del terzo con la T maiuscola l'io rispecchiandosi nell'amico riconosce nel suo io il proprio alter ego sì bellissimo l'amicizia dà all'uomo l'autocoscienza rivela dove e come è necessario lavorare su se stessi ma questa autotrasparenza dell'io la si ottiene solo nell'azione reciproca abitale delle persone che si amano la comunicazione la comunione dell'amicizia è la sorgente della sua forza Sant'Ignazio di Teoforo indicando la forza misteriosa e traumaturgica che i cristiani ricevano dalla vita comune scriveva agli Efesini adoperatevi perciò di riunirvi più strettamente per ringraziare lo dalle Dio perché quando siete stretti in un solo luogo sono abbattute le forze di Satana la perdizione che da Lui proviene esclusa nell'unità di pensieri della vostra fede certo io vi auguro sì scusate queste ultime parole non ve le commento perché perché è un peccato farlo totalmente belle magari qualche altro giorno vi leggerò qualche altro passo perché ce ne sono tantissime io vi lascio con queste bellissime espressioni ritornando al Vangelo di oggi vi dico ora capite perché non ci può essere nessuna comunione di intenti nessun ascolto ci può essere nulla tra Gesù e quella gente nulla non ci sarà mai nulla cosa che invece c'è stata con Maria Maddalena Marta Maria Lazzaro con Zaccheo con Matteo con Giovanni e con tantissimi altri dopo di loro credo che in questi giorni prima della Pasqua dobbiamo proprio chiedere al Signore questa grande grazia questo dono immenso di di desiderare con tutto noi stessi questa amicizia che non si può imporre capite cioè non si può diventare amici per messaggi non si può fare la direzione spirituale per email o per sms o per messenger o per whatsapp non si può non sapevo neanche di cosa stiamo parlando non si fa così non si diventa amici così e l'amicizia non può essere pretesa non posso andare davanti ad un altro e dire io voglio diventare tuo amico diventa mio amico diventiamo amici non si può non si può l'amicizia è è un fiore preziosissimo e delicatissimo che sboccia dove vuole quando vuole non si può non si può imporre l'amicizia non si può imporre l'amore ma io posso amare solo quando io ho instaurato amicizia marito e moglie dovrebbero essere i due primi grandi amici loro e purtroppo gli errori di gioventù poi si pagano quando si è scelto in base ad altri criteri non ultimo il sesso non ultimo non ultimo quella espressione bella che vi ho letto prima la semi umbratile inerte fenomenicità psichica ecco quando si sceglie in base a questo poi alla fine si è in mano niente purtroppo niente non rimane in mano nulla poi è difficile capite perché non si può imporre poi è difficile tirar fuori acqua dove non c'è dopo non basta una vita di sofferenza e allora anche lì uno dice vabbè ho sbagliato e adesso cosa faccio e niente adesso offri offri e impara dalla lezione che hai avuto che non puoi costruire sulla fenomenicità psichica impara a costruire su altro con la maiuscola da adesso in poi chiede al signore la grazia di costruire su altro perché di fatto sapete noi costruiamo sulla psiche sui fenomeni della psiche perché è comodo perché è facile perché è immediato perché abbiamo fretta perché vogliamo avere tutto subito sono come quelli che dicono mi devo sposare mi devo sposare perché il matrimonio è uno status perché se no faccio la parte della zitella della zitella faccio la parte di questo di quello di quell'altro di quello che ho fallito neanche una famiglia mi sono riuscito a fare se non mi sposano sono le carne e pesce devo arrivare un dunque capite noi facciamo questi ragionamenti facciamo questi ragionamenti poi tutto investiamo sul pranzo di ricevimento sull'abito di nozze e dopo due anni siamo lì con la lingua fuori a morire invece dovremmo costruire su altre sulle rocce non devono costruire sulle rocce vi auguro di cuore una santa giornata e che i floreschi vi dia ci dia a tutti il gusto delle cose eterne sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti